A Campli strade più sicure con il nuovo servizio di pulizia e ripristino della viabilità post-incidente, un'iniziativa attivata a costo zero dall'amministrazione. Sì, un'iniziativa molto importante, fortemente voluta dall'amministrazione comunale di Campli. Sul mio impulso e sull'addetto alle manutenzioni, il consigliere Luca di Girono, praticamente abbiamo fatto una convenzione con questa società, la società MPM, che qualora si verificasse un sinistro, ci siano dei detriti sulla strada in cui è avvenuto un incidente, questa società interviene tempestivamente, sia di giorno che di notte, per ripristinare il manto stradale e quindi evitare insidie stradali ulteriori ai passanti e alle autovetture. Quindi un servizio completamente a titolo gratuito per il Comune, un servizio che non c'era, quindi un ulteriore elemento a supporto della viabilità e quindi una garanzia per la sicurezza stradale. Perché è gratuito? È gratuito perché praticamente la società che interviene tempestivamente, come dicevo, una volta fatto l'intervento e ripristinato il manto stradale, ha la possibilità di rivalersi sulle assicurazioni responsabili civili del sinistro. Un servizio importante per il Comune di Campli in collaborazione con la società MPM Group? Sì, con il Comune di Campli abbiamo sottoscritto questo accordo in modo da tenere la sicurezza delle strade come primo obiettivo affinché tutti gli automobilisti non debbano subire degli incidenti a seguito di cattiva gestione di incidenti pregressi. Quindi puliamo correttamente l'asfalto affinché se ci sono tracce di olio, di residui ferrosi o di vetri non debbano causare sinistri successivi a quello già che è avvenuto.